Io sono positivamente sorpreso che gli organizzatori dei colloqui di Tobiaco hanno definito ethical banking, la nostra finanza etica nelle 22 casse orale, come una via nuova di una finanza ecologica e sociale. Da dieci anni noi in diverse casse orali, iniziando dalla casse orale di Bolzano, abbiamo iniziato un percorso per offrire ai nostri risparmiatori e ai nostri creditori delle formule di risparmio e di credito agevolato per finanziare i loro progetti. Questi progetti partono dal commercio ecosolidale, al biologico, all'energia rinnovabile, fino al risanamento per le case.